Salve di pace perché bentornati nel mio show Oggi signori scusate il rumore di fondo del computer ma vabbè fa niente Andremo a fare una smr della mia tastiera signori Ma prima di iniziare mi raccomando vi ricordo di mettere like, iscrizione e commento Possiamo iniziare, buona visione Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che culo che ho avuto veramente. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.